ultimo video prima di iniziare il cammino di santiago sono a lourdes qui ho trascorso gli ultimi miei tre giorni per rilassarmi un attimino e vivere un po l'atmosfera del posto oggi anche pasqua e dietro di me stanno facendo una processione stasera ci sarà anche una fiaccolata parteciperò niente questi dieci giorni di viaggio sono stati belli non vedo l'ora di iniziare il cammino perché era è un mio sogno e non vedo l'ora di essere in viaggio come pellegrino e vi faccio vedere un attimino quello che sono stati i miei primi dieci giorni di viaggio attraverso questo piccolo video ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti